Sam, riesci a sentirmi? Sam, sei al sicuro? Pare che con la ragazza adesso ci sia un profiler. Un profiler? Dove credi di trovarti? Nel labirinto. Lei cerca un coniglio, signor Genko. Devo arrivarci prima di lui. Ti chiami Samantha Andretti. Sam, sei stata rapita 15 anni fa. Forse è giunto il momento di farle conoscere Banni. Non è là fuori, ma dentro la tua mente. Non è 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 fuori, ma dentro la tua mente. Grazie.